Benvenuti su News per te. Giulia Stabile e Clé Di Cadiu condividono una novità eccitante con i loro sostenitori. Prima di continuare iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Dopo la vittoria ad Amici nel maggio 2021, diventando la prima donna ballerina a conquistare tale titolo, Giulia ha continuato a brillare, tornando a Amici come ballerina professionista. Ora, all'età di 20 anni, Giulia si appresta a raggiungere un nuovo significativo traguardo. Ha infatti accettato l'invito di Clé Di Cadiu, rinomato maestro di ballo e figura storica del programma Amici, a tenere una masterclass speciale. Questo evento si svolgerà in onore di Carla Fracci, leggenda della danza, e sarà ospitato dalla scuola di Clé Di. Emozionata, Giulia ha condiviso la novità, sottolineando l'importanza di questo momento e la sua gratitudine per l'opportunità. Giulia ha annunciato questa entusiasmante notizia attraverso una storia su Instagram, promettendo un'esperienza memorabile e divertente per tutti i partecipanti. La comunità online ha risposto con entusiasmo e affetto a questa notizia, esprimendo ammirazione e sostegno per il talento e la dedizione di Giulia. È importante notare che questa non è la prima volta che Giulia collabora con Clé Di. Precedentemente, aveva partecipato a uno spettacolo in memoria di Carla Fracci, consolidando ulteriormente il loro legame professionale e artistico. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video.